In una delle aziende più grandi d'Europa, la Gandini Fratelli in strada Veggioletta, che arriva a coltivare fino a 700 ettari di fagiolini da mercato e a dare lavoro ogni estate a 100 persone, le lepri ormai sparite dal territorio hanno trovato la propria Eldorado. Qui durante la scorsa campagna hanno distrutto 700.000 piantine di peperone, compromettendo da giugno l'intera stagione. Il titolare Claudio Gandini ha così deciso di rivolgersi all'avvocato Danilo Pongolini del Foro di Piacenza e di citare la provincia in tribunale chiedendo un risarcimento danni di 116.788 euro, pari cioè al fatturato perduto. La provincia, dopo aver avanzato una proposta di risarcimento di gran lunga inferiore alle aspettative dell'imprenditore danneggiato, si è costituita in giudizio segnalando quali legali gli avvocati Angelo Perini, Andrea Perini e Andrea Vitelli. A dimostrazione di come, ridotto l'abitat delle lepri, la convivenza tra aziende orticole e zone di ripopolamento si è diventata piuttosto difficile. Ma una convivenza è possibile, hanno detto sia il consigliere provinciale alla caccia Massimo Castelli che Laura Chiappa di Legambiente.